Siamo con Luana Colabello che è una delle organizzatrici del Natale Monticellano, state cominciando a preparare delle manifestazioni per il prossimo fine settimana. 14 e 15 dicembre, vi invito tutti quanti a passeggiare per i borghi di Monte San Biaggio dove ci sarà il mercatino dell'artigianato e la degustazione dei prodotti tipici locali.